Un saluto da Dottor Palmas dal Centro Ricerca e Sviluppo Bocca Bionica, qua vedi oggi una bellissima lezione dove ti spiegherò quanto è importante andare a rispettare i parametri estetici che sono stati già da tempo per esempio da Pascal Magne, un dentista svizzero che lavora negli Stati Uniti a Los Angeles che è stato anche mio maestro, codificati. Per codificati cosa intendo? Intendo che esistono dei parametri, dei valori che sono stati studiati e analizzati e sono esattamente quelli che dobbiamo rispettare quando vogliamo andare a ottenere l'estetica perfetta. Noi abbiamo diversi parametri, quella che si chiama la composizione dentale, abbiamo la possibilità di andare a decidere gli assi dei singoli denti che andiamo a disporre sulla dentatura e qua vedi nello specifico che sto tenendo in mano una dentatura che è un mock-up, un design digitale che è stato stampato in tre dimensioni. All'interno di questo design il computer conserva dei parametri che prima dovevano essere fatti a mano dall'odonto tecnico. L'odonto tecnico doveva conoscere a memoria quelli che erano i parametri dei denti da montare poi in bocca al paziente. Oggi con la linea superior per esempio possiamo andare a realizzare le dentature con l'aiuto del computer, l'aiuto e l'ausilio del computer. Il computer all'interno ha già delle forme, delle texture di superficie, quelle che sono le linee di transizione. Se tu vai a vedere per esempio in queste dentature qua sullo schermo, in questi denti, si vedono queste linee bianche. Queste linee bianche sono le cosiddette linee di transizione. Le linee di transizione sono quelle che danno la tridimensionalità al dente. L'asse del dente dà invece l'orientamento nello spazio dei singoli denti e della composizione dentale. Poi abbiamo che gli incisivi laterali devono essere più piccoli rispetto agli incisivi centrali. Abbiamo che i vari punti di contatto tra i vari denti uniti tra loro hanno due linee divergenti, disegnano due linee divergenti che vanno a salire verso il posteriore. Se traccio una linea che unisce la sommità dei canini con la sommità degli incisivi laterali, con la sommità margine incisale degli incisivi centrali, si crea la cosiddetta ala di gabbiano. Noi abbiamo la possibilità oggi di lavorare con il computer e tutti questi parametri è possibile riportarli automaticamente e posso dire in maniera fedele nella bocca del paziente senza andare più a perdere ore e ore e fare test prove su prove di quella che è l'estetica. Praticamente potrei dire che l'80% della lavorazione che noi andiamo a realizzare è ormai robotizzata. Quella che è l'ala di gabbiano, dove devono essere i margini di transizione, le linee di transizione, quella che è la dimensione dei singoli denti viene automaticamente settata sul computer. Qua tu puoi vedere quella che è la microtexture di superficie. La microtexture di superficie è supportata da una macrotexture di superficie, significa che i denti non sono piatti, non sono lisci, ma vengono realizzate delle superfici che danno poi quella tipica sembianza di denti naturali che poi verranno confusi da chi guarda per denti naturali. La gengiva gioca un ruolo altrettanto importante perché senza le gengive noi non potremmo mai ottenere quella che è l'estetica perfetta. Immaginate se noi avessimo qua i denti della stessa lunghezza della gengiva che abbiamo messo, avremo dei denti da balena enormi, invece le gengive sono fondamentali. Nella linea superior c'è una struttura sottostante che va a reggere i singoli denti che sono dei denti in zirconio. Questi sono dei denti che vanno a simulare i tessuti bianchi del sorriso, ma nel sorriso esiste anche una cosiddetta estetica rosa. L'estetica rosa è la gengiva. Una dentatura bionica, quando la andiamo a ricostruire e dobbiamo con materiali artificiali simulare quello che è l'apparato masticatorio, ha necessità anche della simulazione dei tessuti rosa. La gengiva è quindi una parte fondamentale. Se non viene simulata non potremo mai ottenere l'estetica. I settori posteriori sono i settori masticatori, dove abbiamo delle corone, in questo caso in zirconio, che sono supportate da titanio e ci serviranno a masticare, quindi a permettere il paziente di potersi di nuovo alimentare in maniera corretta. La parte anteriore della dentatura e la parte invece incisale che va da canino a canino, è la porzione che serve a tagliare il cibo, a parlare e a poter relazionarsi con le persone. Senza la parte anteriore bilanciata, quindi con i parametri estetici codificati da Pascal Magne, il dentista svizzero trapiantato in America, oggi sarebbe stato molto più difficile andare a automatizzare quella che è l'estetica. Io sono Dottor Palmas, qua dal Dipartimento di Sviluppo e Ricerca della Bocca Bionica, ti faccio un saluto.